Questa è la traiettoria, cioè la curva dello spazio, con quale ipotesi? Che la posizione iniziale era all'origine e che la velocità iniziale fosse nella direzione x, che non ci fosse un'accelerazione nella direzione x e che l'accelerazione della direzione y fosse costante, non g. Ok? Non dimenticate cosa c'è qua. Questo è x uguale 0 a y uguale g. Questo è il problema con le specifiche condizioni iniziali che x iniziale fosse 0, y iniziale fosse 0, che la velocità iniziale fosse diverso da 0, in particolare maggiore di 0, che la velocità iniziale alla direzione y fosse 0. Quindi queste sono le condizioni iniziali. Iniziali. Questo invece è il quadro più generale. Quindi io posso, con queste condizioni iniziali, questo quadro di cinematica che mi dice le accelerazioni, mi da questo. Se io a parità di accelerazioni cambio le condizioni iniziali avrò una parabola diversa. Quindi questa qua in pratica si può esemplificare in cui ho un tetto orizzontale in cui qualcosa sta scivolando e arriva all'estremità con una certa velocità e poi c'è il precipizio. Ovviamente qua il fluido non c'è. Questo è in assenza di fluido. E in assenza di fluido lui farà la sua bella traiettoria che sarà una parabola, impatterà il suolo a una certa distanza dalla base del precipizio se volete, che dipenderà dalla velocità con qui l'ho fatto partire. Se ha una bassa velocità cadrà più ai piedi, se ha un'alta velocità sarà ad alzo zero e andrà più in qua. Se mi limito a lasciarmi cadere cadrà qui. Quindi la gittata se volete, il punto di impatto al suolo, ammesso che sia orizzontale, dipenderà dalla velocità iniziale. Se il suolo invece di essere orizzontale fosse così, ovviamente gli impatti sarebbero diversi, quindi ecco che i vari esercizi diventano più o meno bizzarri a seconda del sadismo del docente. Ma dovete capire la fisica sotto, puoi trovare la matematica per riuscire ad avere la soluzione. Come cambierebbe l'esercizio se vi chiedo l'impatto qua o l'impatto qui, dato una certa velocità iniziale. E' chiaro che se io sono sulla terra e non c'è un fluido userò il valore g che sarà l'accelerazione di tutti i corpi nella direzione Y. Quindi o togliete il fluido con delle pompe a vuoto oppure trovate il modo di mettervi in un regime dove tutti i corpi avrebbero accelerazione entro un certo gradino di precisione. Tipo quello di renderli densi, prendete il foglio di carta e la fate densa. In quel modo cadrebbe con la stessa accelerazione di un corpo di massa maggiore. Quindi si possono, anche in presenza del fluido, provare in modo di fare un esperimento incredibile. L'oggetto deve essere denso. E' chiaro che un foglio di carta lanciato se li andrebbe svolazzando invece se la cartocciate forse una traiettoria decente la fa. Però se prendete un sasso probabilmente è già molto meglio perché il sasso è più denso ancora. Quindi potete immaginare che questi voli non sono delle perfette parabole e non tutti i corpi seguirebbero, con una certa velocità orizzontale, seguirebbero la stessa traiettoria. Cioè se voi lanciate qua, secondo Galileo, se non ci fosse attrito con l'aria, un pianoforte a coda e un gessetto fatti scivolare con la stessa velocità seguirebbero esattamente la stessa traiettoria. E questo è quello che mi sta dicendo. Vedete che non appare la massa perché appare solo la g che è la g comune di tutti i corpi. Questa è la g comune di tutti i corpi. Se poi invece di essere sulla terra siete sulla luna a qualità di velocità iniziale la traiettoria sarà avversa. Perché? Perché è cambiato g. quindi la a, questo parametro che regola l'apertura della parabola, una elevata a avete una parabola stretta, una grande a avete una parabola stretta, una piccola a avete una parabola più aperta. Una a uguale a zero andrebbe dritto. Quando è che avreste a uguale a zero? Per esempio il quadro g è zero. Quindi in assenza di un pianeta il proiettivo va dritto, no? Cercate di cominciare a guardare questa forma con un occhio alla fisica. Quindi attenzione, Galileo dice che se io riesco a rimuovere l'aria o almeno a battere gli effetti dell'aria, una palla di piombo e una di alluminio e anche una piuma lasciati da fermi avrebbero la stessa accelerazione. Quindi se cadono alla stessa distanza, arriverebbero allo stesso istante. In questo contesto sto dicendo che una palla di piombo, uno alluminio e addirittura una piuma lanciati seguirebbero esattamente, con la stessa velocità si intende, seguirebbero esattamente la stessa traiettoria. La stessa traiettoria. Allora, qua cominciamo a fare un po' di fisica. Faccio questo discorsetto. Dovete sapere, penso che abbiate sentito parlare di Giulio Verne, Giulio Verne era forse il primo scrittore moderno di fantascienza, forse il più antico è di Lucrezio, uno che va sulla luna, moderna. Quindi post-Newton. Attenzione, ho scritto dei bellissimi libri, in particolare uno, non mi ricordo il titolo, forse il viaggio alla luna o qualcosa del genere, dove cosa succede? C'è la guerra di successione negli Stati Uniti e ahimè quando ci sono le guerre, le persone si industriano, si dice così, a creare armi di distruzione molto efficaci. Cosa succede? Che per la guerra di successione ci sono due industriali, uno specializzato nel polvere dell'asparo, che sviluppa polvere dell'asparo sempre più capace di sviluppare tante energie in poco tempo, quindi molto potenti, potenza e energie a nessun tempo, e l'altro è uno che lavora all'acciaio e riesce a fare cannoni, quindi un fabbricante di cannoni e un fabbricante di munizioni, diciamo così, e decidono assieme ad un altro scienziato di creare un canone così, con una velocità di lancio del proiettile, che ha fatto una parabola, di lanciare un proiettile così veloce e di riuscire ad arrivare alla sua luna, ma addirittura un proiettile così grosso da poter fare una stanza interna, ricavare una stanza dove gli esseri umani sarebbero andati, quindi trasportati dal lancio, sarebbero andati sulla luna, ok? Allora, cosa fa Giulio Verne? Intanto non era un canone convenzionale, nel senso di un canone con un rialzo, immaginate un sole, classico canone di stile napoleonico anche dal primo vero mondiale in cui c'è questa cosa così, no, non era così, loro cosa fanno? Fanno un buco nel suolo, tipo un pozzo, fanno una gettata di acciaio e poi mettono il proiettile, quindi il proiettile, immaginate che il proiettile è fatto dal porno un po' aerodinomicamente intelligente, qua giù c'è il polvere da sparro, ok? E loro sparano questo canone e mirano essenzialmente sfruttando la rotazione terrestre, tra l'altro Giulio Verne immagina che questo canone venga costruito in Florida, cioè ha azzeccato il posto giusto dove la NASA di fatto manda i missili, non è una coincidenza, è uno dei posti più intelligenti per via della rotazione terrestre, di sfruttare un po' la velocità della rotazione terrestre per arrivare alla luna, quindi non è una questione di latitudine, anzi sì, di latitudine, di longitudine e allora questo proiettile è una stanza, quindi avete una stanza aerodinamico e c'è un soffitto, un pavimento e allora lui immagina, interessante, lui immagina che gli esseri umani, gli astronauti, abbiano con loro un cane, forse più di uno ma uno mi viene all'orecchio e mi viene a memoria, perché quando c'è il botto, la grande accelerazione iniziale, il cane muore, cioè ha una ferita grave e muore, quindi loro ha il problema di avere il cadavere del cane a bordo della radicello spaziale, quindi faccio il disegno un po' più grande, questa è la luna e il proiettile, una volta che è uscito dalla canna, sta volando, quando questo gesso lascerà la mia presa, non ha più, non c'è più una mia azione diretta sul gesso, quindi lui segue, l'azione della mia mano è cessata nel momento in cui ho lasciato la presa e il proiettile segue il campo gravitazionale, poi impareremo a ragionare cos'è un campo gravitazionale, segue la forza di gravità, farà una parabola, analogamente questo proiettile nel momento in cui esce dalla canna, perché come funziona no? avete questa sostanza chimica che è innescata in una reazione esotermica, quindi libera una gran quantità di calore, il calore cos'è? è energia termica, cioè energia cinetica di queste molecole che stanno viaggiando a velocità pazzesche, urtando contro il fondo del proiettile c'è una grande pressione, il proiettile comincia ad accelerare, ovviamente una volta che esce dalla canna i gas caldi si sfogano e non c'è più la spinta, il proiettile una volta che esce dalla canna vola, come quel gesso un vino è volato, d'accordo? Quindi Giulia Verne immagina tre situazioni, quando il proiettile è vicino alla terra, quando il proiettile è vicino alla luna, questo è il soffitto, questo è il soffitto, e immagina un altro punto che è tra, questo è vicino alla terra, questo è vicino alla luna, un altro punto che presumibilmente non è proprio a metà, un po' di qua. Allora, andiamo a raccontarlo con un po' di chiarezza, lui sostiene che qui, non ridete, è un uomo intelligente Verne, immaginate questa storia molto prima dell'esperimento vero, quindi lui descrive tre situazioni, ma c'è un errore logico, cioè non dovete ridere di quello che dice, ma del fatto che a un certo momento si contraddice, dovete trovare la contraddizione, non soffermatevi su l'affermazione, ma se le affermazioni sono consistenti o inconsistenti, lui fa un errore di inconsistenza, e quindi nell'errore, nel fare confusione, uno leggendo dovrebbe dire, ah non può essere così, poi cosa avviene veramente? Uno deve imparare un po' di fisica, fare gli esperimenti, lui sostiene che finché la erano vicini alla terra, dominava la gravitazione terrestre, quindi le persone qua dentro camminano sul soffitto, ah sul soffitto, sto anticipandola, camminano sul pavimento, e se qua c'è, anzi disegno una sola persona, se c'è un tavolo il tavolo è così, se c'è una pianta, perché lui immagina che la navicella, la cabina siccome è scritta alla fine dell'ottocento, lui immagina l'architettura, il mobilio, gli abiti degli astronauti un po' nell'epoca vittoriana, quindi hanno le giacche, i vestiti di quell'epoca, i mobiletti, c'è la bajur, c'è il quadro, la scrivania, c'è i ritagli dei mobili di quell'epoca, quando è vicino alla luna, lui dice, sono vicino alla luna, domina la forza gravitazionale lunare, e quindi qua riescono a camminare sul soffitto, quindi la persona è così, il tavolo sarà così, la pianta, la pianta è così, poi dice che avevo un cane a bordo e nel lancio, nella grande accelerazione, perché c'è un aumento pazzesco di velocità in poco spazio, il cannone ha una sua profondità e va da velocità zero a una velocità estremamente elevata, tale da raggiungere la luna, in poco spazio, c'è una grande accelerazione, il cane cade, gli adulti erano seduti, il cane non era protetto e si è rotto una gamba e muore, ok? Quindi a un certo momento loro, appena cominciano a volare, devono eliminare il cadavere del cane, e allora aprono una paratia a tenuta stagna e mettono il cane fuori, letteralmente lo appoggiano fuori, quindi lui sostiene che durante tutto il volo, dall'oblò riescono a vedere il cadavere del cane che vola assieme a loro, quindi fuori dall'oblò vedete il povero cane, non ridete, ascoltate, ragionate, e lui sostiene che c'è un punto a un certo momento dove la forza gravitazionale terrestre e quella lunare si equivalgono, e in quel punto lì, all'interno della cabina la gente fluttua, quindi uno sta volando così, il tavolo che so è così, e la pianta dei fiori è così, tutto fluttua, e anche qui però vede fuori dall'oblò il cadavere del cane. Allora, c'è una contraddizione qua, guardi la, c'è una contraddizione qua, cosa avviene veramente? Perché se loro sono tirati verso il pavimento il cane non dovrebbe stare qua, se il cane è sempre qui allora loro non dovrebbero essere tirati in pavimento, se il cane è sempre presente loro e non dovrebbero fluttuare dappertutto. Infatti è così che avviene, se voi, se voi fosse all'interno di una navicella qua, e io vi lanciassi, nel momento in cui stacca la mano e comincia a volare questa navicella, seguendo questa parabola qua, qua flutua, 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 questo è quello che avviene veramente. Lo sapevate questo? Questa è consistente. Se il cane flutua, devono fluttuare anche loro. Se loro invece sono attratti al pavimento, il cane non dovrebbe stare lì, dovrebbe ricadere verso la terra. Quindi Giulio Verner, un uomo molto intelligente, non si è accorto di questa inconsistenza. Poi uno fa l'esperimento e capisce veramente quello che succede, che tutto fluttua. Nel momento in cui il proiettile esce fuori dalla canna, durante tutto il volo, tutto fluttua. E questo non vi dovrebbe stupire, eppure c'è sempre un po' di silenzio quando dico questo, come se voi fosse stupiti. Ma in questo esperimento cosa ho appena detto? che se voi, Galileo dice che se io prendo un pianoforte con una palla di oro e una piuma, ammesso che non ci fosse effetto con l'aria, e li lanciassi alla stessa velocità, seguirebbero esattamente la stessa traiettoria. Quindi se io circondo la palla di oro e la piuma con una scatola immaginaria, o anche una scatola vera, una piccola navicella o una scatola, la piuma, se io sono se questa è la piuma e io sono la palla di oro e sto cadendo, perché magari sono su un ascensore, questo è l'ascensore, io qui sto ottenendo la mia sfera d'oro, ok? La tengo qua di fronte del mio naso, poi qualcuno taglia la corda e la corda cade, cosa succede? Secondo Galileo la sfera di oro e anche io acceleriamo verso il basso con la stessa accelerazione, quindi quando io lascio la presa io vedrò la sfera rimanere qua e cade assieme a me. quindi la sfera fluttua davanti a me, davanti ai miei occhi, non mi cade ai piedi dentro l'ascensore, perché io cado assieme all'ascensore e assieme alla palla, quella palla cade assieme a me, lo vedo fluttuare. E anche se non lo credete, questo è cadere, ma anche questo è cadere. E anche questo è cadere. La parola cadere va un po' generalizzata. quando fate su Youtube, ci sono tante immagini, io sono cresciuto negli anni 60, quando gli americani erano in guerra fredda con i russi e c'era la competizione per arrivare sulla luna, io ho fatto i Mercury, i Gemini e gli di Apollo, ho visto l'allunaggio, di filmati, di assonati nello spazio, ne ho visse a bizzeffe. Voi forse qualcosa avete visto. Io ci sono cresciuto perché ero, no? Poi è successo la tragedia, avevo un equipaggio rimasto conciato sulla rampa di lancio, adesso fanno parte della storia. Guardate, c'è un film di Tom Hanks che è chiamato Apollo 13. Guardatelo, è molto ben fatto, molto ben fatto. È piena di fisica molto correttamente descritta. Poi c'è la bella scena che ogni ingegnere dovrebbe vedere, dove hanno il problema che l'anidride carbonica sta aumentando dentro la navicella e rischia di morire. Quindi il capo della missione prende i suoi ingegneri, li mette in una stanza, sbatte sul tavolo tutti i materiali che gli astronauti troverebbero sulla navicella e li chiude dentro. Quando avete trovato il modo di fabbricare un filtro vi apro la porta. Bellissima scena. Che ogni ingegnere vorrebbe trovarsi in una circostanza del genere. Con materiali. Costruite qualcosa. Prendete i film. Questa famosa espressione in assenza di gravità è una brutta espressione. La gravità c'è qui e come no? La navicella sta seguendo il campo gravitazionale, poi questo concetto diventerà più chiaro, creato dalla terra e dalla luna. Sta accadendo. Ma tutte le cose dentro quella navicella stanno cadendo seguendo la stessa traiettoria. E quindi vedete fluttuare. Quindi quando si dice assenza di gravità in realtà è una pessima espressione. Quello che succede è che non è che non ci sia gravità. Come no? C'è. E' che tutti gli oggetti seguono esattamente la stessa traiettoria. Allora dovreste sapere che c'è un aereo con cui allenano gli astronauti. Perché è molto costoso allenare un astronauta a muoversi in assenza di peso mandandone in orbita. Cosa fanno? Prendono un aereo e lo chiamano, aspetta un attimo, c'è un nome, Vomit Comet. Ecco, questo era il nome storico. Adesso usano diversi aerei, poi c'è stato un periodo in cui usavano un aereo che è di linea, voli internazionali che si chiama la Cometa. Sto parlando degli anni 50-60. Poi è arrivato il 707, poi il 747, adesso ci sono gli aerei più fighi. Ma storicamente i primi aerei in cui facevano questi voli erano una cometa. E lo chiamavano i Vomit Comet. Perché Vomit? Perché Vomito. Cosa fa questo aereo? Voi avete visto i filmati degli astronauti dentro l'aereo in assenza di forza peso? L'avete visto? Dove si devono allenare a muovere il loro corpo. Perché se io da qua voglio andare là, devo spingermi contro qualcosa e poi devo imparare a orientarmi. Cosa fanno? Cosa fa l'aereo? Fa una traiettoria molto interessante. L'aereo prima è in volo orizzontale, poi fa una specie di picchiata. Ma attenzione, è una picchiata molto interessante. è una legge oraria, cioè lui non fa solo una parabola, ma la fa con la velocità, componenti X e componenti Y, la fa con la velocità che avrebbe un oggetto, un sasso, non solo fa questa traiettoria, ma la fa con la velocità giusta. Quindi l'aereo va giù con la velocità che avrebbe un oggetto cadendo e a un certo momento durante questa fase tutto quello che è nell'aereo segue esattamente la stessa legge oraria. Perché l'aereo sta cadendo esattamente come cadrebbe un sasso. tutto quello che è dentro cade esattamente come qua cadrebbero tutti nella stessa traiettoria. Ovviamente lui se continuasse andrebbe a sbattere. Quindi cosa fa? Mandano un segnale acustico, afferratevi a qualcosa, smettete di divertirvi perché è divertente da morire, afferratevi a qualcosa perché deve uscire dalla picchiata. E quindi l'aereo comincia a uscire dalla picchiata e poi ne inizia un'altra. Quindi la picchiata non è più solo a scendere ma anche a salire. Cade! Questa è la cosa che voi dovete imparare. che questo è una caduta anche nello salire. Sta seguendo la gravità. Quindi l'aereo imposta la legge oraria di un sasso che fa la parabola. Anche nella fase ascensionale. E durante tutta questa fase ascensionale qui, fino a qui, fino a qua, da qua a qua, gli astronauti stanno volando tutti nella stessa traiettoria che avrebbe un sasso lanciato da qua con la velocità giusta proprio a seguire questa traiettoria. Quindi qua c'è assenza di gravità, qua c'è gravità e come? C'è addirittura più perché sta facendo, qua si tirava addirittura una forza apparente, una forza peso maggiore della loro peso corporeo normale. Qua assenza di peso. Allora sto per uscire e l'aereo fa una serie di e durante la parabola sia ascensionale che discesa l'importante è che in quel tratto lì l'aereo stia seguendo la velocità sia in x che in y che avrebbe un sasso. Tutto quello nell'aereo farebbe esattamente la stessa traiettoria e quindi io all'interno dell'aereo vedo il mio compagno, la mia bottiglietta d'acqua, la goccia d'acqua, la penna stereografica e fluttono di fronte a me perché siamo tutti seguendo la stessa traiettoria. Ok? Quindi andate a casa, guardate su Youtube queste immagini qua e cercate di capire cosa sta succedendo. Sta succedendo questo. Va bene? Lascio a voi il problema un po' più generale. La stessa cinematica delle accelerazioni ma a condizioni iniziali diverse. Quindi immaginate che per esempio mettiamo l'asse y verso l'alto. Come cambia l'accelerazione? Allora adesso io dico che l'accelerazione nella direzione x sarà zero. L'accelerazione nella direzione y è uguale a meno g perché l'accelerazione è verso il basso. Ma io ho messo y positivo verso l'alto perché sono un sadico e molti libri poi fanno così. Mettere la direzione y verso il basso almeno non avremmo segno tra i piedi ma dovete essere in grado di non perdervi in un bicchiere d'acqua. Ok? E invece di avere queste condizioni iniziali immaginate che inizialmente la particella si trovi per esempio qui. Quindi le condizioni iniziali adesso sono queste. Che la posizione iniziale che so è uguale a, è un valore diverso da zero, è positivo, ah scusatemi, uguale a zero e y zero sia maggiore di zero. Eccolo qua. Quindi lui ha un x zero e ha una y diverso da zero, magari maggiore di zero. Ok? Quindi immaginate che questo è il vostro palazzo e voi qua state lanciando una particella da un'altezza y zero con una velocità, ma la velocità iniziale, queste sono le posizioni iniziali, la velocità iniziale è così, che la componente x nella direzione zero sia diverso da zero, magari positivo, e che la velocità nella direzione y inizialmente sia zero. Allora io cosa faccio? Quindi la particella sta venendo lanciata con una velocità che come usavo per la velocità rossa di parla. La velocità è questa, velocità iniziale. Allora quanta parte della velocità nella direzione x? La scriviamo così. Come il modulo della velocità per il coseno dell'angolo. Quindi questo è l'angolo di rialzo. La componente della velocità nella direzione x è il modulo della velocità per il seno dell'angolo. Quindi ho la velocità iniziale, questa velocità iniziale, che è un po' per di qua e un po' per di là. Questa la chiamo, le chiamo la velocità iniziale, scusatemi, la chiamo così, è il modulo iniziale della velocità. Calcolate la traiettoria. Che traiettoria segue? Prima di calcolare la traiettoria dovete sapere cosa fa la x e cosa fa la y. Quindi di nuovo questa è la situazione e quindi la v di x nell'istante generico è uguale alla v di x iniziale più l'integrale di ax nell'istante delle funzioni del tempo. Queste sono le formule generali che vanno scritte subito. Poi uno si chiede, ma in questo esercizio qual è la velocità iniziale? Qual è l'accelerazione? Beh, in questo esercizio l'accelerazione è la funzione nulla, quindi è evidente che questo è track e quindi la velocità x nell'istante del tempo è uguale alla velocità nella direzione x iniziale che per l'appunto è questo valore qui. Ok? E quindi qual è la posizione x iniziale del tempo? è uguale alla posizione iniziale più l'integrale di questo. Ok? Ma questo qui... quindi prendete questo e la mettete qua e avete che la posizione iniziale più il modulo della velocità iniziale per il coseno dell'angolo per il tempo. Quindi la velocità cresce linearmente. Poi in questo esercizio la x iniziale è zero. Cosa farete? Questo è x e la y cos'è? Beh, la y è uguale all'integrale della velocità in x. Ma la velocità in x cos'è? Beh, dovete integrare la velocità in x. Lascio a voi farlo. Quindi sarà una parabola che in questo caso ha una derivata perché la parabola di prima la parabola di prima com'era? A parte l'aver messo la y verso il basso di qua. La velocità iniziale... Silenzio ragazzi! La velocità iniziale era questo. Silenzio! La velocità iniziale è quella lì nell'esercizio di prima. E la parabola è una parabola così. Cosa sapete della velocità? Che la velocità deve essere un vettore tangente alla curva. Infatti vedete che la curva è una parabola così con derivata da zero all'inizio. Qua invece la velocità è una cosa che è così. La velocità iniziale. Se la velocità iniziale è per di qua, allora cos'è la velocità? La direzione della velocità è un vettore. La direzione di questo vettore è tangente alla traiettoria. Quindi se la velocità è così, la traiettoria deve essere così, è tangente. Ok? Quindi si aprirà e farà il volo. Calcolatela. Quindi chiedetemi, per esempio, se questa è la vostra y zero, qual è il valore di x? Qual è il valore di x per la quale si avrebbe y uguale a zero? Quindi, se questa è la chiamata la distanza d, cosa ha di speciale d? d è il valore di x, tale che, chiamiamola xd, tale che y per xd è uguale a zero. Cioè, lui parte da qua. Qual è il valore di x per la quale questa parabola vale zero? E qua rispolverate la matematica del liceo, no? Giusto? Quindi, se voi avete l'equazione di una parabola del liceo, è questa, no? Questa è la matematica, e voi state cercando la curva y in funzione di x. Quindi, state cercando quella curva. Una volta che l'avete ottenuta, qua, integrando in x e integrando in y, per arrivare a x di t e y di t, poi invertite, ottenete t come funzione di x, e poi quella t la mettete nella y e avete y in funzione di x. E a quel punto, alla domanda, qual è il valore di x per la quale y è zero, è una delle domande a cui voi sapete rispondere, perché avete fatto delle scuole superiori. Se non l'avete fatto, che cazzo fate qua? Quali sono gli zeri di una parabola, no? Qual è il valore di x per la quale y è zero? Vedete che questa domanda, qual è la gittata, se per gittata intendo dire qual è la distanza, ecco qua il nemico che sta arrivando, correndo con un matto, eccolo qua, non so, c'è una bomba in mano, e qua c'è la porta e lui vuole far saltare la porta, voi volete colpirlo, eh? Ok, qual è la gittata? Cosa sarà gittata questo esercizio? È la distanza, il valore della x per la quale y va a zero. Sapendo però che quando x è uguale a zero partiva da questo valore, qual è il valore di y zero là? È c, no? Qual è il valore di a? In questo esercizio. Sarà g, no? Forse è un mezzo g. Ricordate, prima, in questo esercizio, vediamo questo, ok? Quindi, questa roba qua, è la vostra A. In questo esercizio, quello che moltiplica x quadro, non sarà una combinazione dell'accelerazione g e della componente della direzione x della velocità, guardatelo, no? Quindi voi avrete una espressione e voi volete trovare gli x che sono gli zeri, quei, i zeri sono quei x, chiamiamoli così, a quei, tali che y di questi x speciali, ce ne sono due, no? Ce ne sono due, tali che y di x di questi qua vale zero. E dovreste sapere la formulina, no? Se questa è la vostra parabola, sapete che gli zeri, e gli zeri sono meno b, più o meno, radice di b quadro meno 4ac diviso 2a. Questa è una forma che dovrebbe far parte del vostro repertorio di trucchi. Vedete come gli esercizi possono essere affrontati con una combinazione di fisica, ma poi vanno impostati con un esercizio matematico. Semplice, no? Non è difficile. Ovviamente cosa succede se invece di lanciare verso l'alto lascio verso il basso. la parabola sarà così, se lancio in orizzontale sarà così, se lancio in alto sarà così. Qual è l'angolo a cui riuscirei ad avere il massimo agitato? È ovvio che sia il basso verso il basso? Ma qua. Qual è l'angolo a cui avrei la massima agitata? Allora uno deve ottimizzare, avrà la distanza in funzione dell'angolo, e vuole trovare l'angolo che massimizza la distanza. Fa uno studio di funzione, no? Fa uno studio di funzione, no? Va bene e anch'io sono stanco quindi si chiudiamo. Grazie. 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 Grazie.